I residenti della via Firenze del quartiere Providenza a Caltanissetta stanno vivendo un serio disagio a causa del palazzo posto sotto sequestro per rischio amianto, rischio anche crollo, palazzo che è stato chiuso e adesso è diventato discarica, nessuno ci lavora. Spieghiamo un po' com'è la situazione anche perché i residenti lì sono blindati tra il palazzo murato e le loro abitazioni. Intanto credo che l'amministrazione dovrebbe avere un'attenzione maggiore e seria su questo tema e su questo sito perché la situazione è grave, purtroppo l'amministrazione ha avuto la possibilità di utilizzare un finanziamento consistente, più di 3 milioni di euro e ad oggi questi soldi non sono stati spesi o sono stati spesi male. Quindi il primo tema è questo. Per quanto riguarda il progetto noi siamo intervenuti più volte nella fase progettuale di questo cosiddetto progetto pilota che riguarda due solati importanti del quartiere Providenza, un quartiere delicatissimo, storico. Il progetto era del tutto sbagliato secondo noi sia dal punto di vista dei contenuti ma anche delle modalità tecnico-giuridiche e lo abbiamo dimostrato. Ci hanno dato ragione tutti, l'assessorato regionale, il sovrintendente, persino il ministro e quindi la sovrintendenza poi ha imposto una variante a questo progetto. Variante che quando sono iniziati i lavori secondo noi non è stata applicata. Ci sono state fatte delle demolizioni con le ruspe dalla ditta, una ditta che secondo noi non garantisce appunto questo tipo di competenze e conoscenze necessarie. Per cui sono state fatte delle demolizioni con le ruspe, quindi sono state perdute per sempre determinate parti importanti. E in più ci risulta questo fatto dell'amianto miscelato insieme ai detriti in pietra. Quindi un'operazione assolutamente sbagliata e impropria. Quindi a suo avviso il progetto in cosa dovrebbe consistere? Il progetto dovrebbe essere un progetto di conservazione, restauro ed eventuale ristrutturazione di quello che è l'esistente. Non è che non si può intervenire in centro storico, si può e si deve intervenire, però ovviamente con criteri di tipo conservativo, prevalentemente conservativo. Il progetto era sbagliato, quindi il sovrintendente ha dato poi delle indicazioni in questo senso, di tipo conservativo, restauro e al massimo ristrutturazione. Però noi non abbiamo, nessuno ha visto questo, io credo che, io credo, è un obbligo di legge che le pubbliche amministrazioni facciano conoscere alla cittadinanza i progetti. Così come fu reso noto il progetto originario, però quello di, diciamo, la variante non è stata mai resa nota ad alcuno. Per cui questa è una cosa, anche questo è un fatto anomalo. Ma per quanto riguarda il finanziamento, lei ha detto oppure no che è stato perso? Chiariamo anche questo punto. I lavori dovevano essere conclusi nel dicembre del 2014, mi pare che siamo nel 2015, a settembre, per cui il rischio della perdita di finanziamento è reale. Quello che ci ha dato fastidio, in quanto dirigenti di Italia Nostra o i tecnici che hanno firmato questi documenti, è il fatto che a noi è stata attribuita la responsabilità o parte della responsabilità di questi ritardi. Ma i ritardi sono da attribuire integralmente a chi si è occupato del cantiere. Assessore, per quanto riguarda il quartiere Provvidenza, l'emergenza è giornaliera. Cosa intende fare l'amministrazione? Il progetto pilota riprenderà a breve, perché c'è stato un problema con l'amianto, che ora a quanto pare si è risolto, e quindi a breve, nel giro di 10-15 giorni, l'impresa dovrebbe riprendere prima con l'eliminazione delle parti inquinate di amianto. Quindi già si leva il problema, poi bisogna fare un passo con la soprintendenza e riprenderanno i lavori normalmente. Il palazzo in questione è quello che è stato sequestrato? Il palazzo in questione è quello, il progetto pilota. Italia Nostra dice che si stanno perdendo i finanziamenti per riqualificare la zona, è così? No, ancora non si è perso alcun finanziamento, non so su che basi lo dicono.